Ciao a tutti ragazzi, questo è il mio video, io sono Giuseppe e il mio canale, non ancora lo saluto, ma lo farò. Questo è il mio primo video da su, sono in casa mia, ma non ve la faccio vedere perché è il mio tablet questo, è un vlog che ho inventato. Ecco, oggi sono stato 6 ore in macchina per contare, non sapete, non ve lo faccio vedere perché è di buttare, sono stato un'ora in macchina, da poco non montavo, non sapete. Comunque, ciao a tutti ragazzi!